...risultati rimaneremo alle 8.45 con il nuovo programma di radio, d'alti del solaciparosi... ...risultati rimaneremo alle 8.45 con il nuovo programma di radio... ...risultati rimaneremo alle 8.45 con il nuovo programma di radio... ...qua sul computer va compilata, dopo la stampi... ...poi c'è la dichiarazione di inizio pratica... ...ma scusa, ma se sono starita a lui... ...vabbè, mentre io sto anche a metterti o a posto? ...quanti manchi che faccia a metterti? ...poi attestate semestrali di frequenza... ...cioè ogni 6 mesi di mandare la cazione su di te... ...al collegio... ...e poi attestate semestrali di frequenza... ...cazzo qua ne fanno bene... ...e poi se ti chiamano di interi più... ...e' meglio... ...e' meglio... ...e' meglio carichi... ...e' meglio carichi... ...allora vai sulla piattaforma... ...eh... ...piettaforma con eletto petrolifero, eh? ...è il portadomani... ...capito? ...per caso vuoi un colbacco russo... ...o ne fai a meno? ...e? ...no, voglio... ...la macchina fotografica... ...quale? ...la blog di Sony... ...col... ...video editing magics... ...sì, così ti mando i video... ...eh, ci conto, eh? ...cai, ciao... ...salutivi... ...ecco, mi riprendo... ...vole essere già... ...sparmato pure su io... ...utro una città... ...e' chiaro che intanto... ...le ricavano... ...evo, ma se la pluggava... ...ve l'ha messo molti... ...con un decreto... ...iladio... ...me ne ha capito... ...ambiando... ...immediato... ...leggio... ...la... ...e' acaba... ...ah... ...dum... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.